se vogliamo accomodarci che a breve iniziamo Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento di Vacciniamoci contro la camorra, il ragazzo e l'usura una serie di incontri con vari rappresentanti del mondo della legalità o che hanno testimoniato con il loro esempio, con le loro attività la lotta alla criminalità organizzata, rappresentanti del mondo forense ma non solo perché come possiamo dire oggi abbiamo un ospite d'eccezione come Don Luigi Merola, noto a tutti per le sue iniziative a Napoli ma non solo contro questo cancro che è la camorra ma prima di iniziare io passo la parola al sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino per un indirizzo di saluto e per ovviamente aver padrocinato l'iniziativa e aver messo a disposizione l'aula consigliare Prego, signor sindaco Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a Don Luigi che oggi ci onora di essere qui nel nostro comune a Castellammare di Stabia nella sala del Consiglio Comunale intitolata Falcone e Borsellino questa manifestazione, questa iniziativa nasce con lo scopo di sottrarre terreno alla camorra la camorra che rappresenta il cancro di questa città ma dell'intero comprensorio e noi abbiamo la possibilità di manifestare oggi e attraverso i vari appuntamenti che si sono preceduti e che poi proseguiranno il prossimo sabato una ferma condanna quindi ai fenomeni criminali e testimoniare appunto che lo Stato attraverso la sinergia tra le istituzioni rappresenta l'unico vero punto di riferimento al quale i cittadini devono guardare questa manifestazione è stata intitolata Vacciniamoci contro il racket e l'usura perché proprio in questo momento storico, in questa crisi, in questa emergenza sanitaria che vede il Covid combattuto con l'antidolo che rappresenta appunto il vaccino noi abbiamo la facoltà, la capacità, il dovere come istituzione di parlare, di dare testimonianza ai cittadini, a coloro i quali hanno il fiato della camorra addosso questo che cosa significa? Significa che noi abbiamo il diritto, dovere come istituzioni di guardare, di parlare ai cittadini dando quella speranza cioè dicendo che attraverso le istituzioni si può denunciare, si deve denunciare e questo l'abbiamo fatto mettendo in campo questo progetto in sinergia con l'ASCOM la fondazione Exodus e il circolo intercomunale della legalità perché abbiamo sottoscritto un protocollo e abbiamo deciso come ente di costituirci parte civile per il risarcimento dei danni per l'ESA d'immagine della città ogni qua volta si apre un procedimento contro gli estorsori e contro gli usurai quando questo progetto è stato pensato dall'amministrazione e messo in campo in sinergia con le associazioni, il forum delle associazioni, il forum dei giovani questo aveva come scopo parlare, rappresentare ai cittadini che le istituzioni hanno voglia di essere punto di riferimento di chi vuole denunciare ed è questo l'unico metodo e l'unico antidoto che noi abbiamo poi è chiaro c'è lo sforzo straordinario che le forze dell'ordine mettono costantemente e quotidianamente in campo per lottare la camorra ma la sinergia c'è deve essere ancora più forte e oggi abbiamo l'opportunità di avere un illustre ospite Don Luigi che sicuramente ci racconterà la sua vita vissuta e che sta continuando a vivere, ciò che sta facendo oggi è diventato un punto di riferimento forte, un punto di riferimento internazionale, nazionale e quindi noi sullo spirito che mobilita Don Luigi abbiamo il dovere tutti quanti noi di dare speranza ai cittadini se tutti quanti insieme, ognuno per la propria parte, mette in campo la propria capacità la propria professionalità, la propria testimonianza possiamo farcela e questo deve essere lo spirito che ci deve vedere uniti e soprattutto ci deve vedere partecipi in questi momenti di confronto. Grazie Grazie signor Sindaco e adesso diamo la parola all'assessore Diana Carosella che è stata poi una delle ideatrici di questa iniziativa con una formula anche un po' carina, vacciniamoci, anche direi attuale visto che viviamo in questo periodo di Covid, quasi un'assimilazione dei due mali Sì, buongiorno. Allora, come diceva il Sindaco, in realtà è chiara la somiglianza tra il fenomeno della camorra visto come piaga sociale e quindi quello che può essere un antidoto, vale a dire il parlarne, il creare questi incontri, eccetera e l'altra piaga che un po' tutto il mondo sta vivendo che è quella del Covid ed è quindi con lo stesso spirito con cui il vaccinarsi significa mettere un freno a questa pandemia che ha limitato tutta la vita del mondo intero appunto con lo stesso spirito noi crediamo che si possa attraverso questa vaccinazione simbolica attraverso il parlare ai ragazzi, sono qui presenti i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori stabiesi e sicuramente molti ci seguiranno anche in streaming è importante che si parli, che si dica che qualcosa si può fare e non solo da parte delle istituzioni ma da parte di ognuno di noi ecco perché, diciamo, dopo la vaccinazione che ognuno di voi può fare lì fuori ed è ovviamente semplicemente un gesto simbolico si avrà un decalogo di norme corrette da utilizzare nel giorno per giorno ora se tutti noi riusciamo a parlare ai giovani a far sì che la generazione che seguirà la nostra sia migliore della nostra lo dobbiamo dire sicuramente il territorio intero ne gioverà sicuramente non tutti i giovani dovranno andare fuori se vogliono una carriera serena e di successo e probabilmente tutto il territorio vedrà una stagione molto migliore molto più serena in cui anche il turismo e quindi l'introito economico possa aumentare per ognuno di noi perché Castellammare ha tutto per essere una città turistica per essere una città pulsante di vita e sicuramente i nostri giovani sono perfettamente in grado di accettare le sfide del domani appunto seguendo delle norme molto semplici l'intento è questo e speriamo di riuscire grazie Assessore rinnovo l'invito che ha fatto testa il nostro relatore che fuori c'è questo banchetto per poter dare un piccolo contributo non economico quindi una firma per vaccinarsi contro la camurra un gesto che infatti vorrei chiedere anche al nostro ospite Luigi Merola simbolico e volevo chiedere quanto valgono i simboli nella lotta alla camurra visto che c'è quasi un abuso della parola camurra così come c'è un abuso della parola legalità se ne parla tanto però nei fatti non sempre corrispondo allora i simboli quale ruolo hanno nella lotta alla camurra e se è importante parlarne allora io ringrazio voi però chi mi conosce sa che a me piace camminare specie quando vado nelle scuole prendo il famoso gelato così si chiama il microfono senza filo si chiama gelato però non possiamo assolutamente in questo momento particolare fare quello che avevamo fatto negli anni precedenti ci dobbiamo tutti dare una regolata anche nei comportamenti perché solo così possiamo aiutare la sanità a debellare questo virus se ognuno di noi diventa un po' più responsabile allora io innanzitutto devo dire grazie questa parola che come dice Papa Francesco non diciamo più grazie anche alle istituzioni che tante volte noi vediamo lontane che in queste tre sabati invece l'abbiamo visto così vicino almeno all'amministrazione che abbiamo qui vicino alla cittadinanza creando una sensibilizzazione ecco su quello che più che il simbolo dovrebbe essere la scelta di tutti io a volte mi arrabbio quando ormai a dicembre faccio 50 anni pensate io sono da 25 anni faccio il prete e mi portano un po' in giro per l'Italia come la Madonna come la statua come il simbolo della legalità tu mi stai provocando e allora io rispondo alla provocazione invece sarebbe bello qui ci sono insegnanti ci sono gli studenti c'è la società ci sono i nostri cittadini la gente che noi amiamo perché Gesù era uno del popolo assolutamente Gesù voi immaginate che stava sempre in da chiesa dicero rusari no lasciate stare su un bizzogro che poi quando andranno davanti al Signore non sanno neanche i nomi dei dodici apostoli mi è preoccupato diranno ma tu chi sei? io sono il quarto apostolo tu non mi conosco tu andavi sempre tutte le sere a messa e che lo Signore è troppo in messa non ha bisogno noi pur molti predi dovrebbero capire questo noi dobbiamo essere invece pescatori di uomini il prete è colui che esce dalla chiesa e va a pescare che va negli ospedali va tra la gente povera va nelle stazioni va a cercare chi è perduto va tra i giovani che si drogano e qui che voi vi dovete far portavoce ragazzi la droga è morte la droga non ha mai salvato nessuno e quando qualche imbecille politico perché noi abbiamo politici intelligenti come il nostro sindaco Cimmino ma Trimusocchi quando un politico dice legalizziamo la droga significa non ha proprio capito che cos'è la droga significa di nato da scuola traduco in italiano devo andare di nuovo a scuola e poi non siamo a Castellammare il napoletano lo capite benissimo però io spesso quando giro all'Italia devo fare la traduzione in italiano ecco veramente molti non lo so perché stanno lì ma se quando ero parroco a Forcello ho visto 30 giovani morire per droga come si fa a dire una cosa che ti porta alla morte legalizziamo la droga ma lo si scemo tu devi fare in modo che come politico e un domani come sindaco che prima chi andava al Parlamento era primo consigliere poi era assessore poi era sindaco capiva di più l'amministrazione ma basta che fai un incontro lasciamo stare quale incontro faccio prete un po' si dice troppi fattariello basta che fai un incontro e sei onorevole poi già così è questa è la politica schifosa che è diventata invece la politica è la cosa più nobile dell'umanità perché mettersi a servizio della gente oggi il sindaco parlava di speranza entrare nel comune entrare qui sederci dove qui decidono le sorti della città e fa diventare il comune una casa aperta quello che io spesso dico anche girando nelle stazioni dei carabinieri nei commissariati a volte che devi fare cosa devi fare questa è la casa mia la casa è la polizia la casa mia oppure andate in una stazione senza a un certo punto oppure in una scuola un genitore deve parlare con un insegnante trovate un bitello che blocco subito allora vai che fa ehi la caprese deve parlare con un insegnante noi dovremmo aprire le porte perché la nostra comunità diventa comunità quando la casa altrui diventa la mia casa allora cresce la sensibilizzazione cresce che nessuno deve diventare un simbolo qua mi sembra uno che fa il suo dovere è diventato un personaggio allora Don Luigi si è andato su internet come motore di ricerca come sono arrabbiato anche con i giornalisti io vengo visto come il prete anticamorra come se il prete del vostro territorio fosse a favore la camorra e io sono contro la camorra ma lui si dice muover dice vabbè ma ora sei diventato un simbolo ha già capito sono diventato un simbolo ma cerchiamo ecco di essere tutti così allora accetto questa provocazione e ti ho risposto tutti dobbiamo essere un simbolo tutti dobbiamo con il nostro impegno facendo in modo come diceva il sindaco di far crescere innanzitutto la speranza io ho accettato anche se sto molto male perché ho fatto la terza dose e dunque insomma sono stato molto male perché ho cambiato invece di Pfizer prima e seconda ho fatto Moderna Moderna dicono che è migliore quando mi hanno detto che è migliore ho detto vabbè facciamo quello che è migliore no non l'è stato mai rito tre giorni fa vabbè lasciamo stare comunque oggi è il primo giorno che sto bene veramente e allora l'augurio che vi faccio e faccio a questa comunità che oggi diventa anche la mia comunità la mia casa noi stiamo nella casa nostra casa comunale la casa nostra a me fa rabbia a volte io lo dico anche senza troppe provocazioni però ti mi conosci e cose di con faccia a questo tavolo o in quest'aula ci dovevano essere tutte le istituzioni tutte lasciate stare lasciate stare quello che si dice c'è un commissario c'è una commissione ma che vai a dirmi cioè io vado lì dove c'è un'istituzione e vado a parlare ai ragazzi alla cittadinanza di quello che è il cancro come dicevi tu che è la camorra che si manifesta attraverso l'usura il racket attraverso la prepotenza di chi deve comandare quando l'unico che dovrebbe comandare è la cittadinanza anzi come dice l'articolo 1 della nostra costituzione la sovranità del popolo e io ringrazio qui a meno delle tante forze di polizia che vedo la capitineria ma gli altri non lo so penso ci sarà la polizia sicuramente i carabinieri dove stanno non li vedo vabbè dopo mi metto a telefono con il capitano io quello che vorrei da voi è che uscendo da qui quando il prete dice la messa è finita andate in pace non deve essere che bello perché purtroppo anche papa francesco lo dice anche quando più volte ci siamo incontrati le cose vanno male per colpa di noi preti noi abbiamo formato la monnezza dei cristiani abbiamo formato un cristiano che fa di tutto della sua vita invece di un servizio ha fatto di tutto il contrario quello è uscito dalla chiesa ma voi vi rendete conto e io chi cristiano ho formato come prete allora i nostri preti come dice papa francesco devono tornare a fare i pescatori devono in da chiesa non c'è una stavropa essendo in due comuni in da scuola prima insegnavano tanto che i preti ormai si erano stancati abbiamo delegato i laici l'ora di religione il 90% dei professori di religione ormai sono laici laici significa appartengono alla chiesa non voglio fare nessuna guerra che già non sa quanti causi civili lo tengo in tutta Italia ogni volta che parlo inizia una causa civile ma prima il prete era il parroco insegnava pomeriggio tornavano i ragazzi in parrocchia c'era l'oratorio si diventava comunità invece la conferenza episcopale negli anni 80 ha deciso che chi è parroco non può insegnare e cosa è successo in Italia vedete anche la chiesa è fatta di uomini fanno un sacco di errori e questo che sto dicendo mi sono confrontato con la conferenza episcopale ultimamente ha detto noi adesso tutti i giovani preti li manderemo di nuovo a insegnare religione perché i giovani hanno bisogno di queste figure perché i preti innanzitutto un educatore come l'insegnante quando l'insegnante vi mette due o vi mette tre ragazzi quel due quel tre solo deve mettere l'insegnante sulla sua camicia o sulla sua maglietta perché noi andiamo a scuola per imparare se io valgo due o tre è la colpa tua che non mi hai smesso un contenuto perché tu insegnante significa insegnare segnare tu mi devi aiutare a imparare per essere un cittadino onesto se io in una classe e qui lo dico anche da insegnante vedo che tutti in matematica valgono due o tutti in scienza tutte le cose valgono due io insegnarmi devo porre la domanda ma sarò io che non sono capace di comunicare ai miei alunni la scuola deve essere un'altra comunità quando a voi suona la sveglia al mattino questa è legalità questo è l'altro concetto la legalità è un abito cucito addosso 24 su 24 non quando mi conviene sono legal quando mi conviene non sono legal stasera voglio buttare tutta la munizione tutte le cose insieme allora chiudo la legalità poi vado a scuola si parla della plastica la plastica il vetro il vetro l'umido l'umido invece la sera vi mette tutto così insieme credini ti fai festa a te stesso scusate un attimo voi ce l'avete me l'abbasso un attimo io ecco l'augurio che vi faccio e voglio terminare per non essere poi lungo anche perché dovete fare un po' di domande altrimenti no sindaco che stiamo a fare qua questo vaccino ha fatto troppo effetto qualcuno dice no ecco l'augurio che vi faccio ragazzi facciamo rete facciamo squadra anche questa critica bonaria io lo faccio ai professori che ringrazio perché oggi molti professori si stanno sostituendo anche alle famiglie che prima c'era il papà c'era la mamma quando un insegnante chiama la famiglia non arriva mai a scuola anche il povero professore solo e io mi rendo conto che a volte a noi hanno delegato tutto tutto hanno delegato a noi a noi a noi docenti però un professore arrabbiato non può insegnare un professore che a mattina tenere la capa altrove è meglio che si piglia i giorni di malattia fa solo uai fa solo uai un ragazzo quando vede un professore deve essere innamorato deve essere che bella persona è il mio professore guai chi parla male del mio insegnante lo difendo io io farò il suo avvocato avvocato è colui che sta dalla parte dei più deboli lasciamo stare gli avvocati ma è un altro discorso che si apre purtroppo lo dobbiamo dire l'avvocato dovrebbe essere colui vicino al più debole quando arriva un avviso di garanzia o c'è una causa quella persona che hai davanti il tuo avvocato devi sapere in quel momento la persona è più debole non puoi dire metti prima 300 euro qua puoi parlare prima conmigo questo non lo può permettere deve essere chiaro un processo quando può costare 5.000 6.000 euro non è ogni volta che ho parlato domani quando vieni da me portami 500 euro io l'ho sentito perché poi essendo il prete a favore dei ragazzi più fragili la maggior parte i miei ragazzi a voce di creatura hanno i genitori in carcere dunque noi spendiamo quasi 100.000 euro all'anno solo per pagare gli avvocati e non è una cosa bella specie io che faccio i predi io non sono il figlio di Berlusconi che dice vabbè quello è il prete è il figlio di Berlusconi ne ha i soldi tutto a posto cioè io vado pescando per l'Italia per trovare un imprenditore amico un 5x1000 la fondazione viene aiutata anche dal 5x1000 vado da un commercialista ti raccomando se la persona non ti dice a chi vuole dare il 5x1000 puoi ti do la brochure la pubblicità diglielo che cosa è la voce del creatore stiamo qui vicino la voce del creatore stiamo a Pompei e poi i ragazzi che ho nella fondazione la maggior parte sono di Castellammare perché sul ponte dove c'era prima il ponte come si chiama quel ponte? mercato di fiore però il più amante come si chiama il ponte Persica Persica come si chiama o ponte ponte Persica vabbè sto domandando pure uno di voi non preoccupare sono imparato e dunque la fondazione sta lì dal 2008 e si è messa a servizio dei ragazzi di questo territorio dunque se c'è un professionista sarebbe bello che dice un professionista ogni tanto lo faccio gratis che bello questa parola gratis io sapete quando celebro la messa non prendo mai l'offerta perché la messa non si deve pagare cioè io faccio una messa intenzione per un defunto che faccio mi prendi i soldi quello è un sacramento la messa ma non siamo guaiati faccio un matrimonio ma tu sei scemo quello è il tuo lavoro è il tuo mestiere da prete devi essere a servizio della comunità lascia stare che poi gli sposi vogliono fare un'offerta faranno un'offerta e c'è un apposito contenitore dove si mette l'offerta il prete non dovrebbe proprio toccare i soldi sapete quando è nato il sostentamento clero nacque perché il prete dovrebbe avere una sicurezza mensile e non dovrebbe prendere i soldi c'è il consiglio affari economici in una parroccia sono tre laici loro dovrebbero pagare le bollette se c'è il custode pagare il sacristano fare i versamenti cioè i prete i soldi non li dovrebbe proprio toccare perché nel Vangelo e nella Bibbia è lo sterco del demonio il prete si fa prete per stare a servizio vostro totalmente altrimenti è meglio noi ci sposiamo mettiamo al mondo una famiglia teniamo una moglie e i figli come fanno i protestanti allora vedete dobbiamo mettere tutto ordine qui il sindaco forse mi ha chiamato anche perché sa che io provoco però dobbiamo tornare a fare il nostro dovere voi ragazzi dovete fare una sola cosa dovete studiare troppi scemi stanno in giro troppi scemi i primi scemi si mettono i ricchini tutti i scemi si mettono i ricchini i primi cretini si fanno i tatuaggi tutti i scemi la scuola vi deve educare al senso critico come dice lo statuto delle studentesse e gli studenti voi sapete la scuola ha uno statuto su quello statuto poi avviene il regolamento di ogni istituto quello statuto l'ho fatto io nel 2007 ero il consigliere del ministro Fioroni perché quando tentarono di uccidermi a forcella cosa fecero alcuni personaggi va non diciamo nome e cognome ma se non andate la denuncia alcuni personaggi mi nominarono consigliere del ministro Fioroni cioè io pensai di andare a Roma in una parrocchia per motivi di sicurezza poi il mattino fu troppo bello Don Mero la prete antica morra in una località protetta a Roma allora si scemo ma tu quando fai l'articolo si scema ma com'è possibile una località protetta a Roma e meritare o stunga comunque andai in questa località nel 2007 consigliere del ministro Fioroni Giuseppe Fioroni del PD era il governo Prodi fui nominato dirigente con quei soldi da dirigente è nato come nasce la fondazione perché ho messo tutti i miei soldini come dirigente che era un bel stipendio 7.000 euro al mese ora ho lasciato stipendi da fame da insegnante 1.300-1.400 e con quei soldi nasce la fondazione a voce di credito quando io torno dopo tre anni messo da parte 200.000 euro nasce la fondazione a voce di creatura che è una fondazione che recupera i ragazzi e sostiene gli insegnanti nella dispersione scolastica quando la preside un alunno più volte non va invece di chiamare assistente sociale succede chiamano noi perché poi quando chiamano assistente sociale invece di essere alleato perché poi gli assistenti sociali purtroppo lavorano in grandi difficoltà sono sempre di meno e hanno un sacco di problemi da risolvere dunque è più facile fare una relazione e uno mette a posto la carta dice abbiamo segnalato invece no noi dovremmo andare a casa dire perché non stai andando a scuola qual è il tuo problema cioè l'assistente sociale è una professione di aiuto è uno che ti aiuta che non ti scombina la famiglia sta là purtroppo nell'ultimo periodo essendo pochi assistenti sociali perché lo Stato proprio nella prevenzione non ha proprio investito io mi faccio un'altra provocazione sapete la Campania è la regione che ha più forze di polizia la regione Campania che poi quando faccio tanti chilometri da Roma e vengo a Napoli e entro nel territorio campano e stanno trovando posto di blocco non dico ogni 100 metri no non vengo mai a nessuno ma non per loro io li voglio bene io sono alleato alle forze di polizia però purtroppo questi poveri agli anni hanno fatto 50.000 cose hanno fatto notifica ne ha pigliato una ne ha pigliato e allora ecco chiudo il simbolo siamo noi tutti il nostro dovere non aspettate il carabiniere dove sta il poliziotto dove sta dobbiamo chiederci il genitore dove sta il papà dove sta siamo con questo cellulare mano papà sta a mamma con il cellulare o papà con il cellulare i figli la sera stanno a tavola non parlano poco ognuno tiene un cellulare su papà chat mamma chat i figli chat i chat spegnete i cellulari spegneteli dialogate la camorra la si combatte se ognuno di noi fa il cittadino lasciate stare il magistrato quando fa l'ordine di arresto è già tardi il carabiniere quando alle 6 di mattina i blitz avvengono tra le 6 e 7 di mattina dunque se domani mattina non bussa vabbè non ha dei libertà tra le 6 e le 7 questo è l'ordine che hanno ma quando arrivi il carabiniere fai il chirurgo taglia non può curare allora ecco l'iniezione che oggi do a voi genitori a voi docenti a voi amministratori ecco ritorniamo tutti nel nostro ruolo a fare bene il nostro lavoro allora il vostro lavoro qual è? ve l'ho detto prima un verbo un solo verbo è studiare spegnete la televisione spazzatura prima cosa a pomeriggio leggete leggete i libri non si legge più abbiamo distrutto la lingua italiana perché a scrivere sullo smartphone e a chattare non sappiamo neanche chi scrive in italiano spegnete uomini e donne che sta presente 1 a 80 anni ma state a casa state a casa non è possibile fai il nonno la nonna a quell'età devi stare a casa dai l'esempio e noi ogni volta che abbiamo la televisione accesa l'audience aumenta e tutti gli anni vedremo la stessa televisione allora spegnete uomini e donne spegnete il grande fratello VIP il grande fratello Monnez e tutto il resto appresso parlate cercatevi guardatevi negli occhi abbracciatevi noi non ci baciamo più ma un mob che è in mezzo alla pandemia ma pure prima della pandemia non ci baciamo niente ecco questa è la lezione che vi voglio la lezione la testimonianza che vi voglio lasciare non mi chiamate prete antica morra cercate insieme con me ecco insieme con il sindaco con tutte le persone che stanno qui qua abbiamo citato l'ASCOM che è importante perché è la figura importante del territorio ecco con tutte le altre associazioni l'Exodus poi abbiamo il forum dei giovani il forum delle associazioni tutti vedete com'è bello lo dicevo a dell'Aurentis Aurelio che ogni tanto mi dà i biglietti gratis a proposito quando avete bisogno di qualche biglietto in Napoli chiamatemi perché ci ho detto che lui va all'inferno se non dà i biglietti gratis ai ragazzi va all'inferno proprio sarà tra le fiamme ha detto no lui non voglio andare all'inferno ogni 15 giorni ti do 15 biglietti gratis e noi abbiamo mandato oggi pomeriggio altri ragazzi gratis ecco io l'augurio che vi faccio l'ho detto a Aurelio dell'Aurentis dobbiamo essere squadra il solista fa una brutta fine vedete quando si fa un'indagine se la squadra funziona bene diventa una sola cosa se arriva all'obiettivo quando una comunità ha tanti preti insieme che lavorano insieme e non non incominciano a dire ma quello non appartiene a questa comunità appartiene ma noi ciò siamo qua noi siamo rumile e vintun stiamo ancora a dire tu appartieni all'altra comunità non appartiene a me nulla osta lo devi andare a oi scema tu sei predo o sei scema ma com'è possibile tu sei pescatore di uomini tu ti devi mettere a disposizione della gente e tu sei ancora a dire appartiene a questo appartiene a quella io appartengo a un solo boss l'ho detto ai miei ragazzi il mio boss quando nacque la voce del creatore si chiama Gesù Cristo è un po' quello che diceva Don Pino Puglisi lì in Sicilia il centro di padre Pino Puglisi il prete ammazzato dalla mafia perché non abbiamo solo i predi pedofili sono tutti pedofili pure i predi santi i predi ammazzati dalla mafia dalla camorra Don Peppino Diana dalla camorra del casale di principe e Don Pino Puglisi dalla mafia diceva Don Pino Puglisi il mio boss è il centro padre nostro quando Parrino ma chi è il tuo boss e lui perciò nacque il centro padre nostro perché il mio boss si chiama Gesù Cristo e l'ho detto anche questi ragazzi che noi aiutiamo perché molti vengono da clan rivali che poi è bello quando fanno una partita a pallone abbiamo inaugurato e qui Zianiello lo ringrazio insieme agli altri anche amici e sostenitori che vedo qui che mi hanno aiutato con 25.000 euro a fare un campo di calcetto per ragazze del territorio di Napoli quartiere arenaccia ferrovia dove sta luce accesa fino a lunedì due a notte perché se noi mettessimo più cambi di calcetto in tutti i quartieri guadiono quando si va a Fuspeniel guadiono quando si va a comprare la droga se io lo tengo impegnato quando va a fare scelte sbagliate se io faccio l'educatore faccio l'amministratore che si mette a servizio della città quando lo fa? non lo farà mai anzi quando va a casa va a mettere un dolito solo a dormire non può fare guai perché se un ragazzo è impegnato non fa guai se la mattina va a scuola e poi viene eseguita a pomeriggio con tutte le attività a sera si va a mettere in dolito noi dobbiamo fare in modo che le carceri siano sempre meno detenuti perché anche quelli ricordatevi Gesù ha detto che li dobbiamo andare anche a trovare avevo fame avevo sete ero in carcere e siete venuti a visitarmi e non potete immaginare quante persone innocenti soffrono nelle carceri e quante persone innocenti vengono perseguitati quando la giustizia non funziona e quando uno usa il potere per distruggere l'altro invece di trovare la verità la giustizia dovrebbe trovare la verità e se io non trovo una cosa su quella persona non dobbiamo avvenire perché il male che si fa non solo a quella persona si fa il male anche alla famiglia di quella persona agli amici alle persone che si vogliono bene allora perciò io quando giro l'Italia i magistrati che ho vicino a me quando scrivete scrivete bene perché andate all'inferno non è che andremo all'inferno nelle fiamme è quando facciamo soffrire gli altri così quando dico a un educatore ama quel bambino aiutalo è inutile che stai lì solo per lo stipendio io credo che in ogni professione di aiuto bisogna farlo non per lo stipendio per vocazione vi faccio l'insegnante io faccio l'avvocato per vocazione perché voglio difendere i deboli i fragili io faccio il sindaco perché devo aiutare i poveri della mia città perché ad ogni uomo si è dato il lavoro dignitoso si è dato una casa allora sì che io faccio questa vocazione voi non potete immaginare quante volte hanno tentato di uccidermi non solo con la pistola ma anche con con indagini io ho avuto più di quattro indagini lo sapete come prete antico amor poi ogni volta wow tutto perfetto allora rompete le scatole questa è l'ultima parola che vi dico rompete le scatole e non avete paura vi possono fare del male ma non vi possono mai distruggere la vostra coscienza che è serena quando voi dentro avete fatto il vostro dovere voi state solo serena e la cosa più bella è quando vedete questi giovani e avete dato qualcosa a questi giovani come io quando torno a sera a casa stanco morto e vedo la gioia dei miei bambini voi vedete la gioia dei vostri figli dovete dire ah che bello ho fatto il papà la mamma che bello ho fatto l'insegnante ho fatto l'operatore di strada ho fatto l'assistente sociale ho fatto il sindaco il consigliere l'assessore ho fatto finalmente il mio dovere allora rompete le scatole grazie grazie don Luigi Merola io nel mentre pensavo anche a una frase di Edoardo quando diceva che la società mette a frutto l'ignoranza perché è una cartella di rendita quindi quando ci sta l'ignoranza ci stanno anche l'economia allora prima di concludere sono previste anche domande dal pubblico preferibilmente dai giovani che con piacere vedo e volevo prima ringraziare una persona che ha reso possibile questa iniziativa che è il nostro caro Francesco Ferrigno che potete vedere lì con il cellulare si vede si vede sempre il prodotto finito però chi organizza chi lavora chi chiama soprattutto di notte chi coinvolge insomma bisogna anche rendere merito a chi non arrossire però poi volevo anche approfittare per salutare l'avvocato a Feltra che nel mentre è venuto perché è presidente del forum civico delle associazioni però prima di concludere con domande dal pubblico volevo passare la parola al presidente di Exodus se vuole avvicinarsi per un suo intervento prego buongiorno a tutti ringrazio il sindaco l'assessore perché anche aver invitato Don Luigi significa che qua chiacchiere non le vogliamo fare sicuramente perché abbiamo capito chiaramente Don Luigi non le manda a dire ecco per essere chiaro prendo questo tempo per spiegare cosa è la fondazione perché è opportuno secondo me che ci conosciamo la fondazione Exodus 94 è una fondazione anti-usura nata appunto nel 1994 qui a Castellammare opera in tutta la provincia di Napoli ma prettamente a Castellammare in penisola e è nata ed è la seconda più antica d'Italia prima della legge 108 del 96 questo lo dico non perché ci dobbiamo mettere una medaglia perché siamo secondi ma perché chiaramente il problema è molto presente nel nostro territorio perché il problema dell'usura è una piaga che ha consumato e consuma la nostra città e la nostra terra ma allo stesso tempo anche perché la città da sempre ha sentito la necessità di combattere l'usura il nostro fondatore era l'avvocato De Simone e da lì poi abbiamo negli anni anche un attimo cambiato il tiro perché c'era necessità che purtroppo prima si parlava di legalità della droga purtroppo lo Stato un po' di tempo fa ha pensato di legalizzare il gioco d'azzardo facendo una grande iniziativa culturale direi e quindi noi da un po' che ci occupiamo anche di lotta al gioco d'azzardo perché nella nostra terra ma non solo nella nostra terra usure e gioco d'azzardo vanno a braccetto molto chiaramente per dire dei due numeri a me non piace però li dico così ci conosciamo ci capiamo l'anno scorso in piena pandemia noi come fondazione abbiamo aiutato 324 famiglie abbiamo distribuito più di 700 mila euro in questo territorio anche in tutta la diocese perché noi siamo autonomi ma siamo strettamente legati alla chiesa locale che ci stimola ha sempre a nuove iniziative concludo con tre richieste che faccio al sindaco anche stimolato dal tono di Don Luigi uno è se riusciamo a lavorare a un regolamento sulle distanze per le sale gioco perché chiaramente qui a Castellammare c'è un problema legato a gioco d'azzardo usura camorra è chiarissimo e quindi se riusciamo a lavorare insieme noi lo abbiamo fatto già in altri comuni che abbiamo aiutato a scrivere dei regolamenti sarebbe bello se riuscissimo a fare da parte nostra ci sta tutta la disponibilità secondo c'è un'importante legge che è la legge 3 2012 la famosa legge salva suicidi la legge sul sovraindebitamento che consente a chi è sovraindebitato di avere uno strumento per uscire dalla crisi noi da un po' ci ne occupiamo il comune potrebbe aprire uno sportello come organo di composizione della crisi noi questo già lo facciamo come fondazione facciamo una consulenza gratuita con i nostri avvocati che lavorano gratuitamente e diamo sostegno già abbiamo fatto 5 piani già approvati altri 7 stanno in corso sarebbe bello se il comune di Castellammare offrisse questo servizio terzo e questo invece mi rivolgo più ai ragazzi noi a novembre abbiamo presentato in tutte le scuole superiori un progetto di educazione finanziaria per i PCTO che fanno le scuole cioè proprio oggi dopo la pandemia o quasi speriamo alla fine della pandemia abbiamo la necessità di conoscere gli strumenti che utilizziamo con il nostro progetto andiamo nelle scuole cominceremo giovedì dalla settimana prossima a spiegare cos'è una carta di credito cos'è una carta di credito revolving che è quasi sempre più usuraio di un usuraio cos'è una finanziaria un mutuo la delega il quinto tutti strumenti che conosciamo e che anche i ragazzi conoscono ma più che altro che usano che forse però non conoscono quello che c'è dietro il costo di questo denaro perché chiaramente il problema quello che noi abbiamo capito è chiudo è che la richiesta economica è solo la punta dell'iceberg di un problema molto più ampio concludo dicendo a Don Luigi che io non sono di Castellammare ma penso che Castellammare sia il posto più bello della provincia di Napoli sono fermamente convinto ma c'è la necessità e ognuno di noi deve avere la responsabilità di educare ad alzare lo sguardo perché penso che almeno tutti quelli che vengono a noi non hanno la forza di alzare lo sguardo e vedere le bellezze di questa terra quindi noi abbiamo secondo noi una responsabilità di educare ad alzare lo sguardo che i ragazzi guardassero le bellezze che ha Castellammare grazie prima di concludere con relative domande che spero ci siano se l'avvocato Afeltra che è presidente del forum civico delle associazioni vuole fare un saluto un intervento visto che lei rappresenta la classe forense che è la più attaccata prego non so se ha bisogno del microfono naturalmente diciamo no grazie naturalmente naturalmente l'avvocato chiamato a rappresentare e difendere dentro e fuori le aule di giustizia i diritti e le libertà fondamentali del cittadino quindi l'avvocato è in prima linea ma in prima linea sono sicuramente tutte le associazioni il mondo del volontariato il mondo del terzo settore che a Castellammare di sabbia è vivo è vegeto e grazie all'intuito di amministratori illuminati cerca di dare tutto il suo contributo e fa la sua parte anche in termini di legalità Don Luigi anche in termini di espletamento di quello che effettivamente è il nostro compito di piccoli eroi quotidiani cioè di gente che fa il proprio dovere cercando di dare tutto di se stesso agli altri senza nulla chiedere in cambio noi oggi non abbiamo bisogno l'ho detto in altre occasioni tanto di eroi che sul cavallo bianco si scagliano contro il male noi abbiamo bisogno oggi più che mai di uomini e donne di buona volontà che compiano ogni giorno nient'altro che il proprio dovere quotidiano il mondo del volontariato questo lo fa senza stimoli senza chiedere nulla in cambio cercando di fare la sua parte in un mondo che vorrebbe creare migliore in una società che noi ci auguriamo sempre di più e sempre meglio costruirla nei termini della legalità del rispetto degli altri della giustizia praticata non predicata perché questo è poi l'errore che si fa quando si predica ma non nel piccolo non si fa diciamo quello che si può a Castellammare a Gragnano nell'Interland spesso ci stanno tante persone che vorrebbero dare il proprio contributo e noi dobbiamo mobilitarle proprio in questo senso in questa direzione io ringrazio tutti quanti dell'attenzione che voi state portando all'amministrazione con il sindaco Cimmino che sta agitando questo grande tema e non è un tema degli ultimi giorni è un tema che quotidianamente l'amministrazione e i cittadini perseguono nella loro battaglia quotidiana per una società più giusta migliore più a misura d'uomo una società insomma che possa definirsi veramente civile se ci sono domande da parte del pubblico insegnanti vedo anche dirigenti scolastici giovani che vedo qui in prima linea prego prego non so se Luigi Mero la vuole è una domanda che spesso i ragazzi fanno quando si parla anche delle forze di polizia il poliziotto il carabiniero il finanziere la capitaneria di porto insomma chiunque ha una divisa il vigile il comandante qui abbiamo i vigili la polizia locale hanno un dovere quello di servire lo Stato e di far applicare la legge quando abbiamo assistito anche al brigatiere al carabiniere che era fuori servizio alla rapina che hanno fatto lì a Torino i due ragazzi tra cui uno minorenne ecco è sempre nella vocazione del poliziotto carabiniere dare anche la vita perciò uno diventa carabiniere poliziotto tu parlavi però anche a volte quando fanno i servizi di controllo quando si approcciano con i ragazzi che qualche volta ho visto pure io e pure mi occupo di ragazzi che la prima cosa si dicono ma c'ha la divisa perché ha alzato la voce perché ha abusato del potere spesso noi ragazzi non vogliamo essere a caso lo facciamo perciò figuriamoci persone strane se noi ci possiamo eppure indosso una divisa noi dobbiamo rispettare certo se poi c'è un abuso qui c'è l'avvocato che ne può dire qualcosa in più e se c'è un abuso va sanzionato ogni abuso è sanzionato però quando vediamo una divisa io questo lo dico vediamo un labbeggiante acceso non dobbiamo avere paura assolutamente una divisa per strato o un posto di controllo è l'operatore che sta a controllare il territorio dobbiamo stare più sereni a volte noi siamo tessi già quando ci mettono alla paletta dobbiamo essere tessi no non dobbiamo essere tessi noi siamo nella legalità abbiamo la cintura non stiamo correndo siamo sul motorino non con una sola ruota che a volte io vengo qua in maniera nascosta vengo a mangiare ogni tanto un dolce particolare non facciamo pubblicità e vengo in borghese vengo senza polizia senza carabiniere eccetera ma io quello che vengo è il caglio è il caglio ancora senza cash allora a volte pensate anche un carabinier se vi alza la voce e vi dice tu cari e ti fai male diventi scema dunque prendiamolo come come un papà che ci dà un consiglio non come uno che chissà che cosa ci vuole fare grazie grazie il responsabile del fondazione Exodus dove sta parlava di una legge del 96 la 109 del 96 la confisca dei beni confiscati l'acquisizione a patrimonio dello Stato di tutti i beni dei camorristi allora lo Stato ha tutti gli strumenti per sconfiggere questo cancro tutti con la tecnologia voi non potete proprio immaginare io se prendo il vostro anche senza il numero la cella telefonica e prendo i vostri email io posso sapere con chi vi siete fermati con chi avete parlato quanto tempo siete stato e qui ci sono qualche forza di polizia in borghese no le forze dell'ordine possono sapere di tutto e a volte io mi chiedo perché non c'è quel salto finale quella volontà di poi di vincere e come uno sta per arrivare a traguardo e bisogna alzare la bandiera ma ora sta bandiera che la voglio alzare perché sono quasi per vincere invece siamo sempre prima del traguardo perché vi dico un po' quando ero parroco a Forcella pensate che il clan Giuliano il clan che poi ha combattuto contro la nuova organizzazione criminale contro Cutolo è l'unico clan che ha cercato di uccidere e che poi hanno fatto anche in un anno 200-300 morti a Napoli si uccideva pensate i camorristi arrestati a Poggio Realti non so se avete visto qualche film vero non i scimitaggi insomma negli anni Ottanta comandavano loro pure in carcere davano ordini poi ringraziando Dio grazie a dei deputati a Parlamento è stata fatta questa legge sono morti però delle persone prima di arrivare a fare questa legge lo Stato ha questi strumenti però dobbiamo fare in modo che dobbiamo arrivare a traguardo lo dobbiamo fare come si diceva prima educando i giovani e lei diceva quali sono i pericoli oggi dove ci sono i soldi dove c'è la finanza dove ci sono gli appalti dove ci sono i centri commerciali voi non potete immaginare nell'ultimo periodo nei centri commerciali quanti soldi si sono riciclati eccetera dobbiamo essere vigilanti qui uso una frase sono un prete uso la frase di Gesù siate vigilanti perché non sapete nel giorno e nell'ora dobbiamo stare attenti l'invito che mi è stato fatto prima alzare lo sguardo diceva sempre l'amico di Exodus alzare lo sguardo sì dobbiamo alzare lo sguardo sempre e ci dobbiamo piegare solo davanti alla divinità non davanti a nessun essere umano ci dobbiamo piegare io ho sempre detto è meglio morire in piedi che stare tutta una vita incinocchiate è meglio morire in piedi che stare tutta una vita non ci dobbiamo incinocchiare davanti a nessuno l'avvocato lo diceva è quello che non gli eroi ma ognuno ne fa il suo dovere tutti i giorni è un po' quello che abbiamo detto anche nel mio intervento sì se non ci sono altre domande giusto l'ultima che poi dopo procediamo anche ah sono due ragazzi e poi e poi dopo c'è prevista anche giusto una marcia per conclusiva finale che ci vediamo giù se riusciamo se riusciamo prego allora i giovani poi anche se magari fate insieme una domanda prego prego non ho capito 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 dicendo che ogni discorso è storia che è molto emozionante e molto di ispirazione per tutti ma ogni ogni tanto combattere queste organizzazioni criminali può far davvero molto paura di specialmente per ogni giovani ma praticamente per tutti per cui volevo chiedere se lei ha ancora paura quando combatte queste organizzazioni e come riesce a superare questa paura appunto a fare ciò che fa lei attualmente che fa se presidente di rinatemi doveva andare a tutto a dormire visto che lei ha citato l'italia come è organizzata la campagna rispetto alle altre regioni della dignità in questo caso dell'italia che si organizzata bene o bene grazie non è che salvatore sono ragazzo prima dell'istituto di Renate in Italia innanzitutto buongiorno a tutti e volevo diciamo con una domanda come si combattere la diciamo la capolta e soprattutto se si può avere un riscatto della società siamo gli ultimi saranno i primi allora da salvatore come si combatte la camorra si combatte l'abbiamo detto un po' tutti quanti noi facendo il nostro dovere vi ho detto voi avete la vostra forza è la penna è il libro pensate che l'Italia è il paese dove c'è più alto tasso di scrittori il 90% si presume quasi l'86 90% sono gli scrittori anche il diario no ma poi di lettori neanche il 18% degli italiani legge un libro e perciò siamo qua dunque la camorra la si combatterà ogni giorno quando più aumenteremo la lettura più faremo crescere la cultura quando i nostri ministeri non siano più ministeri della distruzione ma dell'istruzione perché negli anni abbiamo sempre tagliato io mi ricordo quando cadde vi dicevo ero consigliere ministro Fioroni quando cadde il governo Prodi venne il governo Berlusconi con la Gelmini la prima cosa che fece è tagliare 30.000 cattedre torse il diritto agli istituti cioè l'unica cosa bella che c'è il diritto poi torse le ore insomma il brutello successe queste cose non ce le possiamo permettere in Italia ecco passo a Raffaele come è organizzata la campagna queste cose non ce le possiamo permettere questi errori gravissimi solo per un fatto economico perché Tremonti aveva chiesto che noi per stare in Europa dovevamo fare i tagli i tagli ma abbiamo fatto diventare il ministero della istruzione il ministero della distruzione ve l'ho detto prima non più che costruire le carceri che in Italia sono 250 e abbiamo proposto altre carceri da costruire noi dobbiamo rifare le scuole cioè non è possibile che in una scuola non c'è la palestra non è possibile che in una scuola non c'è il teatro cioè io a pomeriggio mia mamma non mi deve scrivere a teatro perché i soldi non ci stanno mia mamma non mi deve scrivere alla palestra privata perché in giusti non ci stanno i soldi io devo stare a scuola dalla mattina alle 8 e managgia a sera io amo vedere le scuole con le luci accese anche di notte perché là sicuro quello non si perde perché ci sono altri poi docenti non è che il docente può stare fino all'ottima sera e chi lo può separare la moglie o il marito facciamo peggio facciamo la dica no dobbiamo assumere altre figure professionali perché la scuola deve diventare casa nostra la preside non deve vivere la scuola come se fosse sua proprietà la preside sta a servizio della scuola non è possibile se c'è nel cortile se c'è uno spazio verde o pomeriggio non si vogliono gioco a pallone e poi se si fanno male ma chi si prende la responsabilità sta a casa non fa preside se hai partecipato a un concorso pubblico e sei diventato dirigente ti devi assumere responsabilità ma che so se scimitaggino mi assumo la responsabilità e chi si piglia che è e fa un'altra cosa torna a farlo insegnando non fa più la preside e così lo dico ai dirigenti che dovrebbero firmare in un'amministrazione la paura sempre di firmare ma tu che hai fatto a fuoco un concorso alla dirigente si ti mette sempre a paura tu ti stai a casa la mattina allora fine la paura come l'ho combattuto sapete come l'ho combattuto la paura l'ho combattuto il primo giorno 27 anni io sono diventato prete a 23 anni e mezzo con la dispensa del Papa l'età canonica è 25 anni dopo i tre anni a combattere a Marano di Napoli l'usura contro un clan mi trasferirono subito appena ho toccato un po' allora c'era un cardinale particolare fui trasferito direttamente a Forcella io sono stato trasferito per Punizio io pensavo che ero stato trasferito perché era arrivata una lettera di una donna e si era innamorata di me perché purtroppo voi sapete essendo preti e noi siamo chiamati a celibato non potete immaginare quanti donne si innamorano delle figure istituzionali di preti o no però poi tu ci fai capire anche quando si vengono a conversare e dici uomo padre che belle mani avete che belle labbra ma tu ti confusano come si fottano cioè basta basta che uno mette il paletto all'inizio o no però è nella natura umana noi non ci dobbiamo scandalizzare che può succedere importante ognuno ha il suo stile e può fare una scelta nella vita no poi nessuno è costretto a un certo punto abbiamo pensato in Italia abbiamo 100.000 ex preti che si sono spogliati hanno avuto il coraggio di sposarsi e di vivere alla luce del sole e a questi preti bisogna dare coraggio no poi ci sono le mele marce ma lasciate sapere prima o poi tutto verrà a galla tornando alla donna a questa donna questa donna anziana che mi diete questo coraggio a 27 anni mi guardò e disse questo guadio un gel che può fare per il gel questo guadio un gel e l'altra accanto lei mi voleva incoraggiare un po' e l'altra accanto però subito mi stoppò disse padre qui così funziona io dopo neanche 15 giorni acchiappai a tutti e due fede, speranza e carità 76, 86, 91 che lì le tre epizogra che dicevano tutti i seri ero rusaria dicevano sentite la calma venite vicino a me così non funziona perché non funziona così perché il prete è uno che deve rompere le scatole e vedete il coraggio Lorenzo sapete chi ce lo dà la preghiera io vorrei chiudere con questo anche per il mio ruolo che ho dobbiamo tornare a pregare noi non preghiamo più noi non preghiamo più per i nostri preti per i nostri parroci ci lamentiamo li critichiamo ma io mi chiedo ma chi prega per il proprio parroco chi prega per le persone più care che attorno a volte succede che uno muore si fa il funerale io lo facevo sempre alla messa perché dicevo è meglio che faccia la messa perché poi i figli a questa persona che è morta mi ricorderanno proprio il chiuamis allora non facevo la liturgia oggi i preti sono stanchi fanno la benedizione ma come una persona è morta tu invece celebra la messa ma perciò io Vincenzo sa ho non solo la camurra che mi combatte ho pure qualche prete che è qualche di uno che si faccia ma oggi ho accattato a qualche sacerdota scherzando no perché li stimolo ma io lo faccio anche come critica di crescita io non sto qui a distruggere la chiesa io sono figlio di questa chiesa però è fatta di uomini e ci dobbiamo aiutare tra di noi quando la pietra non è messa bene bisogna aggiustarla perché se non l'aggiusta adesso che lo crollo il palazzo bisogna subito intervenire e lui dicevo non come succede nelle amministrazioni non queste qua a Marano io abito a Marano Marona teni miei bucchi così o no pochi giorni fa ho visto un nuovo picchiariello che chiude proprio tutta la macchina rinda come sono fermato ho dato una mano eppure quella buca era stata segnalata da 15 giorni però l'amministrazione comunale di Marano non ha soldi e perciò quella buca era così aperta con piene d'acqua la persona anziana non ha visto che giustamente che era una buca cioè il doffuniarid e allora è inutile rimandare non si rimanda non possiamo rimandare è finito il tempo di rimandare sempre e allora facciamo tesoro dell'appello del nostro avvocato ecco ognuno di noi sia eroe di tutti i giorni lo diceva Don Tonino Bello che è stato un vescovo in Puglia di Molfetta straordinario noi dobbiamo essere eroe del quotidiano di tutti i giorni grazie a tutti i giorni grazie a Luigi Merola se magari il sindaco per concludere un saluto finale che poi ci abbiamo alla e non so se c'era anche qualche avviso da parte dell'assessore che prego prego la firma sì l'avviso è che fuori ci stanno gli operatori per poter sottoscrivere vacciniamoci su Contro la Gamora e quindi ci prendiamo questo vaccino io voglio ribadire i miei ringraziamenti iniziali perché quello che colgo nel guardarvi negli occhi è che oggi siamo riusciti a trasmettervi ciò che era all'interno del programma che abbiamo messo in campo grazie alle parole alle straordinarie parole all'emozione che ci ha trasmesso Don Luigi Don Luigi Merola facciamo tesoro tutti quanti insieme di questa giornata e solo aiutandoci insieme parlando dialogando potremmo realizzare grandi cose per questa comunità grazie di cuore a tutti grazie a tutti